Ciao da Christian, questa sera il Globo Vercelli sono tornato, sono veramente carico per questa notte. A tra poco. Le mani su, 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 su. That's me in the corner. That's me in the spot. Life, losing my religion. Put your hands up. Now put your hands up. If you feel the music, put your hands up. If you feel the music, now put your hands up. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.